Oggi parliamo di networking professionale, ne parliamo con una persona che ne ha fatto un lavoro in qualche modo, ma da angolature un po' particolari, un po' diverse, partendo proprio anche da un background che è un background psicologico e quindi che lo affronta anche con veramente uno spunto molto interessante. Quindi chiamo qui virtualmente a fianco a me Claudia Campisi, benvenuta Claudia. Ciao Alessandro, buongiorno e bentrovati tutti. Veramente tante persone ci stanno salutando, ti mandano un saluto, sto vedendo qua i commenti, insomma, quindi benvenuti a tutti voi. E benvenuta Claudia, grazie di esserti prestata in un periodo molto intenso della tua carriera, a questa mezz'oretta, quasi oretta, insomma, più o meno pausa pranzo insieme a noi. Grazie a te per l'invito, tu sai che io ti stimo tantissimo, ti seguo da sempre, mi hai sicuramente negli anni ispirato molto e anche per una gestione etica della mia presenza su LinkedIn e quindi introduco già una parolina importante. Molto importante, sì. Allora, visto quello che hai detto, diamo un retroscena, così diamo anche un po' di colore ai nostri... Annetto, tu. Sì, allora, io e Claudia ci siamo conosciuti, mai di persona ancora in realtà, ma il networking si fa online, si fa online, questo è un esempio online virtuoso, ma io ho un ricordo, il primo ricordo di Claudia, una volta che ci siamo scritti, mi ricordo che ero in Indonesia e ero in un caffè molto carino, ma sperduto in un'isola dove non ci sono nemmeno i mezzi a motore, per intenderci, e allora nel 2019, era luglio, facciamo una call appunto per conoscerci e incominciare a parlare, insomma, di quello che reciprocamente facciamo, e mi è sempre rimasta in mente questa cosa, infatti quando ti ho contattato, no Claudia, ho ricordato quel momento un po' particolare. Certo, questo ha dimostrazione che quando si ha voglia di incontrarsi, si utilizzano i mezzi a disposizione in quel momento. Giusto, non conta la distanza, i fusi orari, le connessioni buone o cattive. Per te, se non ricordo male, erano le sei di mattina, mi sembra. Era un orario improbabile, sì. Senti, allora, io non ho ancora però dato un job title per te, qui vediamo psicologa del lavoro e career coach, adesso però chiediamo meglio a te di descriverti, io aggiungo magari solo, perché poi so che tu sei modesta, magari non lo faresti, nominata da qualche settimana a LinkedIn Top Voice per la parte di carriera, e quindi anche una voce che in qualche modo oggi rappresenta anche ufficialmente, insomma, questi argomenti su LinkedIn. Ma nella tua vita lavorativa, raccontaci un po' quello che fai. Sì, hai ragione, quella è un aspetto che ancora faccio fatica a integrare. No, allora, io da sempre sono una psicologa, da quando avevo 23 anni, quindi oggi non diciamo quanti anni siamo arrivati. Un paio d'anni. Sorvoliamo, sorvoliamo. Però sì, questa è proprio la mia identità professionale, intorno al quale ho costruito poi fondamentalmente la mia carriera, quando da psicologa clinica ho cominciato invece ad interessarmi e a formarmi nell'ambito della psicologia del lavoro, e quindi delle risorse umane. Ho fondamentalmente un percorso molto coerente, perché entrando nel mondo delle aziende come i Char, sia come consultant, e da qui quindi forse il mio approccio commerciale è un po' spinto, e poi come risorsa interna, ho via via, diciamo, approfondito tutti gli aspetti della psicologia del lavoro all'interno dell'azienda, quindi valutazione, progetti di recruiting e talent acquisition, e poi nel 2016 il grande incontro con la tecnologia e il web, che ho integrato e per la quale mi sono formata veramente tanto, perché amo tutto ciò che è novità, quindi utilizzo spesso la parola integrazione, perché mi piace tantissimo dare valore a ciò che è tradizionale e che ha sempre dato risultato, ma via via integrare e sperimentare tutto ciò che ci arriva di nuovo. Sono anche una career coach, perché ho avuto delle esperienze in aziende che si occupano di consulenza di carriera, di orientamento professionale, e poi la grande passione che è diventata anche un lavoro è proprio quella della creazione di contenuti per il web, ma anche per gli amanti della carta, di libri. Sto lavorando infatti al terzo libro, e questo è l'impegno di cui parlavamo all'inizio. Quindi sì, sono felice perché sono riuscita ad organizzare le mie passioni e le mie caratteristiche professionali in una carriera, oggi da circa due anni come freelance, diciamo anche perché freelance non solo per scelta, ma anche per necessità, perché io giro spesso l'Italia e cambio città, mi sposto e quindi la dimensione di freelance mi appartiene e mi è tanto consola. Eh sì, eh sì. Vedi, dalla tua introduzione già emerge un insegnamento, al di là del tema del professional networking, il tema di come oggi una carriera, tu che fai appunto anche consulenza di carriera, ha bisogno di ibridarsi in qualche modo e di contaminarsi da mondi diversi, perché ci sono almeno tre elementi che sono poi quelli che ci permettono una lettura del networking professionale molto interessante, che sono quello psicologico, che parrebbe per forse alcuni cozzare con quello invece un po' più commerciale, che invece gli dà un valore, si stabiliscono i giusti limiti, come dicevamo prima, e con quello invece poi più di autrice, di creazione di contenuti e di scrittura vera e propria, anche insomma un conto è fare un post per LinkedIn, un conto è scrivere uno, due o addirittura tre libri, e quindi tutto questo insieme ci porta al nostro tema. Io partirei proprio da una definizione più o meno sintetica, ma anche insomma al tempo ce l'abbiamo, tu come definiresti e cos'è secondo te realmente il networking professionale? Ma io ho almeno tre definizioni estremamente sintetiche su se è il networking professionale. La prima è la parola stessa, relazione, ed è quindi diciamo il ricercare e creare attivamente delle relazioni con una finalità professionale. L'altra è una soft skills che considero davvero una capacità che può essere quindi sviluppata, allenata e trasformata nel tempo in base anche al contesto, al tipo di settore per il quale si è interessati e si lavora. E la terza, che un po' è cucita addosso a me, ma non credo di essere assolutamente l'unica, considero il professional networking uno stile di vita, perché quando alleni qualcosa, quando ci credi, lo alimenti quotidianamente e lo fai quindi diventare parte di te integrante, diventa veramente uno stile di vita. Ma a condizione che ci si muova sul binario dell'autenticità, perché io ci tengo sempre a sottolineare, essendo stata anche commerciale di servizi e oggi commerciale di me stessa, e lo dico senza vergogna, il professional networking non è l'attività di sviluppo commerciale, è altro. Brava, esatto, questo è importante. Questa mattina riflettevo proprio sulla parola networking, quindi anche al di là del professionale volendo, e sorridevo pensando a come questa parola negli anni, negli ultimi 15 anni probabilmente, più o meno, ha fatto dei viaggi semantici da giro del mondo, no? Cioè, da essere un tema molto più relegato all'aspetto tecnologico probabilmente, quindi più proprio sistemistico in qualche modo, per poi arrivare ad aspetti puramente commerciali, per poi trovare quella che secondo me ad oggi, qua so che ti trovo d'accordo, la sua collocazione più nell'ambito delle relazioni in senso generale, e poi noi lo colleghiamo nel professionale perché di questo ci occupiamo, però è una parola insomma che magari ancora genera in alcuni qualche sentimento contrastante, io lo vedo quando uso la parola, soprattutto alcuni restano un po' spaesati nell'utilizzare la parola relazione abbinata professionale all'interno del contesto di LinkedIn, dove pensano per forza o vado se cambio lavoro o vado se cerco i clienti, sono un po' le due campane che suonano, alcuni dicono relazioni, ma io non voglio creare relazioni, cioè facciamo, teniamo distanza, no? Non so se ti è mai capitato di avere questo tipo di feedback. Sì, mi è capitato sia all'interno delle aziende per le quali lavoravo, dove magari la mia attività significativa all'interno del portale era vista a volte con curiosità altre con diffidenza, ma anche soprattutto dalle persone che aiuto e seguono i percorsi che spesso hanno proprio un dubbio rispetto all'utilità stessa di sviluppare e creare relazioni all'interno della piattaforma. Perché la risposta è semplice, perché sicuramente sviluppare delle relazioni autentiche richiede tempo, richiede impegno, continuità e non da risposta immediata a un bisogno quale può essere ad esempio un bisogno pressante sottolineo come può essere ad esempio trovare lavoro o trovare nuovi clienti o nel caso dei recruiter aggiungo trovare candidati perché io non mi nascondo all'inizio parlo di oltre dieci anni fa quando mi sono iscritta sulla piattaforma io non avevo ben chiaro quale fosse l'utilità di LinkedIn anche perché la piattaforma era quasi esclusivamente in inglese e quindi era anche questo un filtro e chi era più curioso si scriveva però sicuramente c'era anche questo importante canale di comunicazione che ci portava comunque a esprimerci quasi necessariamente in inglese e quindi anche a capire con chi poterlo fare o meno in una fase subito successiva il mio utilizzo era prevalentemente dal ce l'ho ce l'ho mi manca nella ricerca del candidato quindi anche io non ero presente sulla piattaforma in maniera funzionale e al 100% quando poi è avvenuto in me per prima lo switch sono riuscita poi a mettermi in gioco completamente e a ottenere uso non a caso proprio questo termine grandi risultati e i grandi risultati di cui parlo sono appunto le relazioni incontrare persone significative nel loro oggi professionale che poi sono diventate importanti strategiche nel mio percorso e potrei fare veramente tantissimi nomi di persone che oggi sono parte della mia vita anche offline ma che io ho incontrato assolutamente online qui su LinkedIn eh sì no infatti adesso approfondiremo questo perché secondo me è uno spunto anche un po' operativo daremo qualche suggerimento magari anche operativo e mi piace molto le parole che aiutano la relazione l'autenticità con le persone significative appunto fare relazioni professionali poi su LinkedIn o anche altrove ma online LinkedIn alla piattaforma di elezione non vuol dire dare il proprio tempo il proprio credito indiscriminatamente a chiunque eccetera tra l'altro cito un sondaggio che ho fatto su LinkedIn settimana scorsa dal mio profilo ho proprio chiesto alle persone magari alcuni hanno anche partecipato tra quelli che ci stanno ascoltando ora quanto tempo dedica a conoscere i tuoi nuovi contatti con telefonate appuntamento video call perché se voglio fare una relazione appunto non è aggiungerti come collegamento e dimenticarmi di te ma almeno avere un momento di confronto e ti do dei dati così su 135 voti quindi un numero statisticamente forse non significativo non rappresentante di tutta la popolazione però c'è già qualche numero pensa che il 40% ha risposto non lo faccio quindi probabilmente identifica anche il fatto di ritagliare del tempo come un ostacolo oltre magari anche ad altri tipi di ostacoli o mancanza ancora di motivazione perché molto spesso la motivazione ci fa trovare il tempo e a questo proposito vorrei mostrare il commento di Francisco che dice se voglia di fare networking puro il tempo si trova sempre e sono proprio d'accordo poi un 30% ci dedica più di un'ora a settimana che è un'ottima fetta insomma del proprio tempo e un 22% meno di un'ora a settimana questo è stato il totale non fa 100 perché il restante ha detto altro però mi ha sorpreso come appunto il 40% ha proprio nonostante sia un utente mediamente attivo su LinkedIn se vota un sondaggio non siamo andati a pescare diciamo nel vuoto comunque non si dedica a fare il networking ora io ti farò una seconda domanda ma vorrei proporre a chi ci segue così manteniamo un po' di interazione visto che Claudio ci ha dato tre definizioni possibili del networking scriveteci la vostra nei commenti e poi magari le vediamo alla fine potrebbe essere interessante capire per è vero che siete stati già influenzati da quello che Claudio ha detto però dateci la vostra se volete definizione di networking nei commenti poi ne leggiamo qualcuna o se non riusciamo alla fine le commentiamo insomma nel post della live ho detto poco fa che molto spesso la motivazione è quella che ci fa trovare il tempo superare gli ostacoli quindi quindi un po' li hai già citati ma proviamo a mettere in ordine secondo te quali sono i vantaggi concreti che porta il networking che parte disinteressato ma non vuol dire che lo si fa senza un fine ovviamente ci sono dei vantaggi che portiamo a casa e anche per mettere un po' di paura in quel 40% quali rischi oggi nel contesto lavorativo professionale molto competitivo in cui ci troviamo si possono correre se uno continua a ignorare questa leva ecco io rispondo a questa domanda ma prima rispetto al sondaggio ci tenevo a introdurre un'altra piccola riflessione data poi dalla mia esperienza diretta spesso chi non inizia un'attività di professional networking lo fa perché in realtà non sa da dove iniziare sembra un paradosso perché poi su LinkedIn ci sono tantissimi post prodotti da realtà autorevoli come appunto può essere la tua azienda Alessandro e da tanti opinionisti che a vario modo contribuiscono sul tema però spesso è proprio il primo passo il primo in assoluto che spinge a non compierlo assolutamente e quindi ecco perché è importante rispondere alla tua domanda per spingere anche con le proprie risorse quindi senza fuochi d'artificio a compiere questo primo passo che ancora oltre quel 40% non lo sta facendo quindi vediamo subito quali sono i vantaggi ma i vantaggi sono sicuramente l'entrare in connessione in relazione con una persona un professionista che ha qualcosa da darci anche semplicemente con la sua attività su LinkedIn faccio degli esempi concreti seguire delle persone attive ci porta ad avere accesso diretto ad informazioni preziose queste informazioni preziose chiaramente dipendono dalla scelta delle persone che andiamo a seguire quindi se seguiamo una persona che condivide contenuti formativi che ci interessano direttamente perché magari ci aiutano ad aggiungere dei tasselli mancanti al nostro percorso seguirla già è un vantaggio se quella persona condivide opportunità professionali allineate al nostro settore accediamo con facilità a informazioni prima di altri o insieme ad altri seguire quella persona significa anche avere accesso alla sua rete non è un aspetto indifferente ecco se ad esempio io voglio facciamo degli esempi concreti accedere a persone che condividono come me la passione per l'utilizzo di LinkedIn io mi connetto con Alessandro Gini perché sicuramente chi lo segue sapendo esattamente qual è il suo core business indubbiamente già di per sé ha un interesse per LinkedIn per la formazione su LinkedIn e quindi è in connessione con Alessandro quindi io grazie ad Alessandro accedo a una grande fetta di altre persone che condividono una passione ma non è soltanto questa forse è la dimensione più passiva dell'entrare in connessione in relazione con una persona ma anche questa già non è da poco è vero poi subentra tutta la parte interattiva la parte interattiva noi la possiamo costruire gradualmente quindi puoi iniziare tutto con dei in punta di piedi like o una delle tante reaction che mette a disposizione la piattaforma per fare capire all'altro che ci siamo che lo stiamo leggendo che lo stiamo apprezzando e questo io faccio sempre un esempio molto concreto spesso ci sono dei post che hanno un'unica reaction tutti like se vi fa piacere farvi notare e distinguervi dall'autore del post perché non usare l'unica reaction per quanto pertinente che ancora non è stata usata sicuramente sarete notati perché in mezzo alla moltitudine di like punto o applausi magari utilizzare l'unica reaction che ancora non è stata utilizzata per quanto ripeto pertinente può essere un modo per farvi notare sicuramente il passaggio successivo qual è esprimersi quindi commentare può essere utile anche sul commento di cui io parlo e scrivo da diverso tempo anche se lo chiamo comment marketing e quindi a volte può essere considerato nell'accezione più negativa possibile in realtà io lo chiamo comment marketing perché così si chiama però lo riporto sempre su un'accezione dell'autenticità e più relazionale da psicologa quale sono spiegando che si può e si deve commentare all'interno di quei post in cui abbiamo una risonanza sincera un interesse reale e in cui possiamo dire qualcosa che arriva dalla nostra esperienza che può essere quella più tecnica ma anche puramente relazionale da utente da possibile e potenziale cliente interessato non c'è nulla di male quindi se Alessandro pubblica un contenuto particolarmente interessante anche semplicemente dirgli guarda Alessandro grazie non ero a conoscenza di questa nuova funzionalità sulla piattaforma l'andrò sicuramente a rivedere tenendo di conto del tuo post poco semplice ma Alessandro mi noterà mi ringrazierà e magari nulla vieta che è quel famoso primo passo che voi ancora non vi sentite proprio pronti di fare lo farà Alessandro perché Alessandro vi ho notato avrà apprezzato la semplicità del vostro messaggio e probabilmente da persona esperta avrà anche percepito che quello è un vostro primo passo e vi aiuterà a fare il secondo magari chiedendovi la connessione e questo è un esempio eh sì un esempio molto concreto prendo al volo una domanda e l'ultima è arrivata poi per gli altri che hanno fatto domande non preoccupate le sto tenendo da parte che le prendiamo al momento giusto ma questo è molto puntuale perché Lidia ci chiede per il networking di cui state parlando è necessario aderire a LinkedIn Premium no stiamo parlando di cose che si fanno senza tirare fuori un euro dalla propria carta di credito perché è proprio l'essenza il cuore di LinkedIn per ora stiamo facendo esempi molto legati a LinkedIn poi ci spostiamo anche magari nell'offline ma assolutamente rispondo già alla domanda non serve tornando quindi ai vantaggi abbiamo detto possiamo chiaramente avere accesso delle informazioni possiamo attraverso queste persone avere accesso al loro network e di conseguenza magari avere anche accesso a opportunità in tempi diciamo molto rapidi prima magari per esempio pensando all'opportunità lavorative talvolta addirittura prima che un'offerta lavorativa venga addirittura pubblicata e quindi poter accedere a una selezione in una via prioritaria giusto o sbagliato che sia ma così sono le dinamiche no? e da un punto di vista commerciale invece visto che abbiamo detto che fare nettono professionale non è fare sviluppo commerciale cioè non è tempestare 100 prospect cercando di farne cascare qualcuno nelle maglie di appuntamenti automatici ma è ancora una volta essere autentici nelle relazioni com'è poi il link no? da relazioni apparentemente disinteressate a opportunità commerciale ma credo che anche lì valga un po' la stessa qualità della relazione che si prova a sviluppare offline perché per chi svolge attività professionale sappiamo perfettamente che non si arriva all'incontro col potenziale cliente semplicemente con una mail o un paio di telefonate però è in quella mail e in quel paio di telefonate che si sviluppa già la relazione quindi il contenuto che sia verbale e quindi veicolato anche dalla voce o che sia all'interno di una mail è sempre ed è già relazione questo cosa significa che dobbiamo in qualche modo essere autentici e impegnarci a far arrivare quanto più possibile la qualità che la nostra relazione può poi dare anche all'altro perché se scriviamo dei contenuti sbilanciati l'altro non percepisce in cosa noi possiamo essere di valore per lui e quindi non si creano i presupposti per l'incontro per l'andiamo oltre come si suol dire io ho dei casi nell'esperienza personale in cui delle mail in realtà mi hanno portato a sedermi anche a tavoli molto prestigiosi e allora partire proprio da quelle mail può essere interessante perché ci fa riflettere su ma che cosa gli hai scritto per sederti per essere invitata presso quell'azienda ecco probabilmente a volte anche nei contenuti bisogna saper osare e andare oltre il tradizionale il tradizionale è sono il commerciale dell'azienda X e vorrei parlarle dei miei servizi ecco questo probabilmente andava bene vent'anni fa oggi la nostra azienda che offre esattamente quello che offre un altro centinaio se non migliaio di aziende in cosa è diverso se tu non lo riesci a comunicare è chiaro che il filtro non lo superi e quindi laddove la tua azienda da sola non ce la fa tu sei l'elemento che riesce a farla arrivare e come comportandoti in maniera diversa cioè faccio degli esempi io da HR ho ricevuto indistintamente sia mail commerciali che CV dai candidati ecco LinkedIn non può ridursi in uno scambio di brochure o di CV prima ci vuole una relazione fatta anche di domande nei tempi giusti con i modi giusti e di un'etichetta rispettosa del gioco delle parti nel senso se io sono un commerciale è normale che dall'altra parte troverò spesso diffidenza fastidio come aggiro queste emozioni le aggiro creando una relazione che non è fatta sul mi hai dato il contatto ora ti bombardo ma su un po' come avviene in qualsiasi relazione un prendere e accorciare le distanze nel tempo quindi non posso pensare di installarmi anche un sales navigator e ottenere subito dei risultati se dietro non ho una strategia che miri alla relazione perché oggi chiunque può comprare da chiunque ma la scelta a chi affidarsi è sempre veicolata dalla relazione dall'affidabilità dalla validazione della fonte quindi io posso anche vendere un prodotto perfetto ma avere un profilo personale pessimo e quindi in un certo senso anche danneggiare il prodotto perché sono tantissime le variabili guarda faccio allora hai dato delle cose di grandissimo valore secondo me in quest'ultimo cioè tutto ma qui per chi fa commerciale secondo me c'è grandissimo valore perché qualcuno potrebbe dire come fai a dire che ci deve essere autenticità se poi comunque uno ci vuole anche portare a casa un risultato commerciale dobbiamo capire che le tue cose non cozzano appunto se fatte in un modo etico sano equilibrato è chiaro io ce l'ho scritto sul profilo faccio il commerciale non è che dall'altra parte si aspettano chiacchiere completamente nel vuoto però ci sono degli step qui faccio un coming out importante io ho iniziato a usare linkedin non come consulente professionista nel mondo linkedin ma come commerciale nel 2011 ho incominciato a cercare clienti per un'altra mia società nell'ambito produzione foto e video attraverso linkedin allora tra l'altro linkedin era un po' diverso un po' meno maturo molto più in inglese come ricordavi e io ho fatto esattamente gli errori che citavi prima quindi quel tipo di messaggio no proprio molto direttamente commerciale tanto è vero che sono arrivato ad aver avuto il profilo bloccato da linkedin per presunto spam ma non usavo bot o sistema automatico dicevo proprio io a manina che tempestavo chiunque potesse essere minimamente in target con zero obiettivo relazione e cercare di venderli addirittura il minuto dopo ho imparato la lezione e mi ci sono talmente applicato che ho cambiato lavoro e ho fatto diventare l'utilizzo un pochettino più strategico e più sostenibile poi il mio lavoro come abbiamo detto però ho provato ecco dall'altra parte e devo dire che anche un maiale cieco prende una ghianda ogni tanto quindi anche quell'approccio fastidioso non sostenibile non corretto secondo le regole il contratto di licenza di linkedin a qualcuno qualche risultato lo potrà portare perché per carità nella quantità uno ci becca anche qualcosa ma quello non è networking e non apre secondo me ha un aspetto molto bello del networking che è la casualità o la serendipità non so c'è alcune volte una relazione che nasce sotto una certa idea magari con un obiettivo di carriera o commerciale porta attraverso quella persona attraverso le sue conoscenze a qualcos'altro di imprevisto ma di altrettanto ancora maggior valore e questo secondo me va tenuto sempre in mente quando si approccia si approcciano le relazioni prendo un paio di commenti visto che abbiamo citato allora hai detto un profilo che deve essere fatto bene in effetti Francisco prima diceva possiamo fare networking su linkedin se abbiamo un profilo povero magari senza foto non andate col passamontagna a fare un aperitivo di networking no non dire passamontagna perché è quasi un linkedin qualcuno l'ha usato per un po' di tempo ah no non lo sapevo poi mi dice allora in privato chi non ok c'è un'altra domanda di Marco Davi invece che dice quanto possa essere profittevole nel breve termine in networking un po' di pazienza ci vuole nel networking no non so cosa ne pensi ci vuole sicuramente pazienza però è chiaro che se il networking parliamo in ambito commerciale deve portare a dei risultati quello che può dare risultato nel breve termine è un lavoro strutturato io quello che consiglio sempre un po' in tutti gli ambiti è procedere con un metodo se tu hai un metodo allora arrivi ai risultati e per arrivare ai risultati nel metodo devi avere proprio una mappatura delle azioni da sviluppare e portare avanti e in base a questa mappatura hai anche degli obiettivi a breve medio e lungo periodo di conseguenza se vuoi dei risultati col networking devi andarci giù dritto cioè non è che lo devi sviluppare quando c'hai tempo gli devi dare un ruolo in agenda di conseguenza così come ti prenderai nella tua giornata delle ore per fare attività di mailing o telefonate ti prenderai delle ore ovviamente in momenti strategici per il tuo tempo e quindi la qualità del tuo tempo ma anche per quella del tuo interlocutore per sviluppare anche su LinkedIn ad esempio l'attività di network quindi se si vogliono dei risultati non può essere un'attività improvvisato che fai sporadicamente e generalmente faccio degli esempi concreti se ti serve il network per sviluppare dell'attività commerciale è molto importante partire proprio da LinkedIn perché spesso da persona che ha fatto tantissime telefonate e mandato tante mail negli anni di carriera avere già i riferimenti degli interlocutori giusti può essere molto utile per accelerare il processo anche nell'offline faccio degli esempi una volta tu alzavi il telefono dovevi superare dei filtri telefonicamente poi ti davano un indirizzo molto generico e tu non sapevi effettivamente a chi scrivevi nel mondo i char ad esempio dietro una mail personale ci possono essere dalle 2 alle 10 20 persone perché poi ognuno ha il suo dominio specifico però tutti leggono quell'indirizzo lì quindi lavorare su LinkedIn non è opzionale è un'integrazione all'attività che abitualmente da commerciale sviluppi e porti avanti poi ad esempio cominciandoci a collegare anche all'offline è molto utile conoscere per la tua nicchia tutti gli eventi di settore gli appuntamenti da non perdere per chi è interessato a quell'ambito e questi sono tutti argomenti che servono anche per confrontarsi in quella fase di accorciamo le distanze che poi inevitabilmente ti avvicina anche al tema più strettamente commerciale bisogna conoscere bene il proprio settore in tutte le sfaccettature per poter essere preparati ad un confronto di qualità di livello altrimenti tu sei un venditore e non sei un consulente giusto stiamo un po' sull'offline perché sull'online in particolare LinkedIn mi ha già dato un po' di consigli poi qualcun altro lo aggiungiamo rispondendo a alcune domande che sono arrivate parlando invece più di offline appunto è per accitato conoscendo il proprio settore e mappando eventi attività sul territorio possiamo fare networking anche lì collegato probabilmente a quello su LinkedIn LinkedIn ci prepara magari degli appuntamenti o viceversa si conoscono persone in presenza e poi continuiamo la relazione invece a distanza online attraverso LinkedIn cos'altro potremmo aggiungere come delle buone pratiche da mettere come dicevi in modo strutturato anche all'interno dell'agenda per il networking offline ma per il networking offline sicuramente è più semplice sicuramente andare nel diciamo andare a ricercare quelle relazioni sul territorio che possiamo poi sviluppare con maggiore facilità quindi magari andare a intercettare quelle figure di professionisti che lavorano nella nostra città quello può essere utile perché magari da LinkedIn possiamo spostarci all'offline a me è successo chiedendo di andare a prendere un caffè insieme quindi non è che per forza tutto deve passare per il grande evento ma ad esempio le associazioni di categoria hanno spesso degli uffici sul territorio quindi perché non sostituire la classica telefonata con un passaggio diretto in ufficio questi sono esempi concreti più sul relazionale veramente offrire un caffè vedersi presso lo studio di uno dei due professionisti e poi magari può essere carino per supportare e invitare gli altri a fare lo stesso postare anche una piccola foto uno scatto in occasione di quell'incontro offline questi sono dei piccoli esempi però il senso è proprio quello di decidere di mettere del tempo in agenda per queste attività e non farlo soltanto perché si partecipa a un evento una cosa molto carina e diffusa che vedo su LinkedIn ad esempio è quando un professionista si trova per alcuni giorni in un'altra città e chiede al suo network se ci sono delle occasioni di incontro o se c'è del tempo a disposizione per vedersi questa è un'idea che sposo sempre anche io quando mi sposto magari non lo faccio sempre così apertamente perché poi sarebbe anche difficile riuscire a mettere insieme tutte le disponibilità o quantomeno in base alla mia capacità di spostamento cerco di organizzarmi con quelle risorse per esempio lo faccio all'interno delle community perché io amministro la community ma sono anche all'interno di altre community e quindi credo nell'idea di community è carino secondo me dare spazio a questi incontri e uscire quindi ogni tanto dall'online da dietro questi schermi e viversi dei sani momenti di offline sì guarda racconto una mia esperienza al riguardo magari non tutti si possono identificare ma poi ognuno la declina no oltre alle cose che hai detto che sposo che a momenti alterni ho fatto o faccio con più o meno costanza io sono uno di quelli pigri nell'uscire da casa purtroppo ma qualche anno fa penso fosse il 2018 forse 17-18 ne abbiamo avuto l'idea di organizzare degli aperitivi di networking cioè di per sé l'idea non è certamente innovativa non siamo stati i primi però per fare un networking al quadrato un meta networking non lo so cioè dare alle persone che magari non facevano quello che abbiamo appena detto né offline né online l'occasione di conoscere persone simili con interessi simili perché come dicevi alla fine chi segue una persona un'azienda probabilmente ha dei punti in contatto dei valori degli interessi quindi ne metto la nostra community di up for business non ci chiamiamo così allora incontriamoci per fare un aperitivo e quindi io mi sono diciamo preso l'impegno di organizzare un giorno una data un luogo per far trovare le persone sono stati appuntamenti ancora li ripetiamo di tanto in tanto che mi è andato dei riscontri dalle persone proprio di wow che bello che è sedersi a parlare senza uno schema noi volutamente in questi incontri non abbiamo fatto non so l'elevator pitch che a turno tutti si devono presentare o organizzare per forza presentazione è proprio un momento di stare insieme le persone possono parlare vedono la persona che avevano visto online e la rincontrano offline e poi in quel caso io mi ero preso la responsabilità di cercare di magari presentare direttamente delle persone che sapevo potessero avere qualche cosa da dirsi ma è stato illuminante vedere come persone appunto che non hanno ancora l'abitudine o non avevano una struttura perlomeno vedere che poteva essere interessante sono nate relazioni di valore proprio in quei contesti si sono messe in gioco in maniera molto spontanea diciamo e alcuni stanno seguendo la chiacchiera la chiacchiera libera fa bene tanto quanto la chiacchiera strutturata perché spesso le sinergie le opportunità di collaborazione si discutono davanti a un caffè a pranzo o perché ci si conosce durante una formazione quindi non bisogna diciamo sempre andare alla ricerca dello strutturato anzi sappiamo che spesso quando siamo autentici diamo all'altro le migliori opportunità di valutazione quindi benvengano anzi queste situazioni molto naturali spontanee dove possiamo essere noi stessi prendo questo commento al volo Benedetta era uno dei nostri ultimi aperitivi e aspetta al prossimo organizzeremo in primavera allora prima di andare verso la conclusione e ci sono talmente tanti commenti interessanti che vuole peschiamo qualcuno a caso magari per dare qualche risposta poi io personalmente mi prendo l'impegno di rispondere anche un po' nei commenti a cose interessanti sicuramente perché tra l'altro proprio in un post di oggi in cui riflettevo su come uno degli ingredienti fondamentali del professional networking sia l'accessibilità tra le tante caratteristiche che raccontavo del come si può essere accessibili c'era proprio quella di attenzione a chi pubblica dei post e poi non partecipa sotto ai commenti cioè questo mi dà molto l'idea di un ripetitore senza ricevitore quindi sicuramente Alessandro anche io mi prenderò volentieri del tempo per continuare la conversazione ti ringrazio allora io chiuderei come ultima domanda appunto magari di qualche commento con perché l'ho citato prima ma non l'abbiamo magari approfondito i rischi cioè oggi 2023 contesto lavorativo professionale commerciale competitivo da una parte importanza di strumenti come LinkedIn poi insomma dalla pandemia in poi a maggior ragione canali alternativi non fisici per le relazioni troppo importanti cosa rischia il professionista che vuole continuare a ignorare perché dice no io non voglio dedicare tempo non voglio aprirmi alle persone o così secondo te in quanto tempo si diventa obsoleti se si continua a ignorare questa leva beh allora probabilmente chi rimane fuori da questo meccanismo magari è bravo offline e quindi riesce a ottenere dei risultati tali per cui si può ancora permettere di essere fuori dal dal mondo digitale e dalle opportunità che esso offre io sono dell'idea che un'integrazione graduale su misura della propria personalità e delle proprie capacità e competenze di esposizione potrebbe essere invece al contrario la scelta sostenibile un altro termine che utilizzo sempre perché si parla tanto di sviluppare network ne stiamo parlando però è sempre un'attività che va iniziata portata avanti con costanza e quindi deve essere sostenibile rispetto alla propria agenda alla propria settimana lavorativa quindi piuttosto che iniziare e sbilanciarsi tanto in termini di tempo bisogna trovare invece quella misura quella dimensione che possiamo invece portare avanti nel tempo con qualità e continuità quindi sperimentare per capire che cosa possiamo fare e che cosa poi ci porterà effettivamente tanto quanto otteniamo ad esempio dalla nostra attività offline che cosa ci perdiamo ci perdiamo sicuramente il bello della relazione quindi non solo le opportunità ma anche il piacere di incontrare persone che ci possono fare crescere che ci possono offrire anche la loro attenzione il loro tempo di qualità io dico sempre che senza il professional network non sarei assolutamente la persona che sono oggi io mi sposto da 15 anni per l'Italia probabilmente andrò anche all'estero e non sarei così serena di affrontare il mio presente e futuro professionale se non potessi contare sulla fiducia e la stima di tutte le persone con cui sono in connessione io ci tengo a lasciarvi questo messaggio perché vi assicuro che spostare ogni un anno due anni massimo la propria famiglia non è facile perché a volte e questo è un messaggio molto umano che voglio mandarmi non è che le persone da cui ho acquistato qualcosa o a cui ho venduto qualcosa sono rimaste clienti barra fornitori ma sono state poi persone care che mi sono trovata che mi hanno consigliato la scuola per i miei figli mi hanno consigliato una città che magari non era proprio la città ma era la provincia dove cercare la nuova casa quindi il professional networking è qualità se è relazione autentica poi si può scrivere insieme dei libri promuovere un nuovo corso andare a prendere un caffè è tutto conseguenza l'una dell'altra però cioè rinunciare a tutto questo ti chiedo per te esatto per te sono d'accordo benissimo allora tra ci sono nei commenti tante belle definizioni di networking quindi io poi me le rileggerò con calma non stiamo adesso appunto a condividere sono veramente tante ma lo dico anche gli altri se avete letto i commenti li trovate se non leggetelo c'è una domanda interessante di Michele che mi piacerebbe condividere perché secondo me è un aspetto che potrebbe essere sviluppato successivamente ma è intanto interessante metterlo sul tavolo cioè il follow up io quindi faccio la mia video call il caffè comunque mi concentro a creare una relazione però e ne ha parlato in parte anche Federico Presezzi si diciamo toccando un punto simile poi sparisce cioè si sfilaccia magari la relazione non si mantiene le persone spariscono un po' nel vuoto oppure noi non abbiamo come dice Michele una struttura di follow up per non perdere queste relazioni tu hai qualche buona pratica su questo? Sì io la mia pratica è la faccia tosta nel senso che comunque se una persona mi è piaciuta e la voglio continuare a sentire e a vedere non mi creo particolari difficoltà a scrivere anche scusandomi del dello pseudo ghosting cioè perché è la vita cioè a volte un po' come i post è l'algoritmo che ci fa vedere determinati post e quindi determinate persone è anche vero che dovrebbe essere un impegno da parte nostra quella di non perderne di vista alcune particolarmente interessanti non c'è nulla di male a farsi risentire anche dopo tanto tempo utilizzando le motivazioni che sentiamo più vere cioè io a volte dico ma caspita ma da quanto tempo non ci iscriviamo eppure ti ho pensato oggi ho deciso di iscriverti ma come stai che cosa fai dal nostro ultimo pranzo ci sono delle novità a me è successo proprio l'altro giorno con un mio contatto che dopo tre anni mi ha fatto questa domanda come stai cosa fai io non c'ho neanche riflettuto su quanto nel tempo che era trascorso dall'ultima nostra conversazione io ho risposto come se non ci sentissimo da qualche mese poi lui mi ha detto oh caspita però Claudia guarda che sono circa tre anni che non ci iscriviamo ma io non ci ho trovato nulla di male né a rispondere in maniera autentica alle sue domande né al fatto che lui mi iscrivesse dopo tre anni perché in fondo anche io le avrei potuto scrivere e allora non ragionando sempre in quest'ottica da decluttering incallito ah ma se non scrivi con una persona da tre anni vuol dire allora che non è importante no non è detto e comunque sono le famose relazioni deboli i legami deboli cioè non ci serve questa continuità non sono i nostri migliori amici o migliori clienti no ma è un po' il nostro esempio cioè noi in realtà tra l'altro ci siamo conosciuti con un obiettivo commerciale ma che poi non si è mai sviluppato non ci siamo scritti per tanto tempo ho visto la tua nomina LinkedIn Top Voice ti ho messaggiato abbiamo parlato è nata questa cosa e non si apriamo dopo domani o fra tre anni per quale motivo e per dirci cosa ci sentiremo ma ciò non toglie autenticità anzi secondo me ne dà proprio perché diventa disinteressato quando c'è l'occasione insomma questo che appena detto cioè come hai trattato il tema tra l'altro risponde in parte anche a un'altra domanda che era sempre interessante di Roberto un po' sulla mappatura delle azioni quindi in parte anche questo poi c'è anche molto altro il tema della mappatura potrebbe essere molto grande e ci terrei a prendere anche al volo un commento di Valeria questo qua sul fatto delle interazioni da vita a relazioni quasi inimmaginabili non immaginabili online penso che intenda l'interazione online continua da vita e lei è un grande esempio io ogni volta che c'è Valeria online mi piace parlarne vi consiglio di seguirla perché è un ottimo esempio è molto ispiratrice non dico niente di più questa volta così siete condizionati ad andare a sbirciare il suo profilo ma in questo contesto a livello di networking lei secondo me è un grandissimo esempio e soprattutto è un grande esempio di dedicarsi alla conversazione per esempio nei suoi post di presenza di presidio veramente di grande attenzione alle persone e quindi ci tenevo a prendere questo è importante questo che dici di presidio che era il tema che avevo accennato prima perché un post può diventare già un esempio di community di piccolo salotto e spazio dove ci si può confrontare e quindi è veramente un peccato e a volte anche strano se non surreale vedere appunto questi post in cui l'autore lancia la pietra e poi la conversazione va da sé che non è male il fatto che le persone da quell'input sviluppino poi una conversazione che va con le loro gambe come se io ti invito ad una festa a casa mia e poi io non ci sono ti saluto e mi vado a prendere un famoso caffè con qualcun altro e no ci restano male poi non va bene senti allora io andrei a chiudere anche perché wow sono 53 minuti diciamo il tempo sì no ma va bene lancierei solo un tema da non sviluppare ma ce lo mettiamo come appunto per il futuro è chiaro l'abbiamo toccato l'hai toccato durante tutta la chiacchierata l'aspetto di scrivere dei contenuti diventa un aspetto importante perché è quello che dà una leva moltiplicatoria al networking cioè i messaggi le telefonate i caffè sono fondamentali ma sono attività uno a uno quando si fa un post ammesso che l'algoritmo permetta di mostrarlo alle persone che ci interessano ma anche lì ci sono un po' di cose da fare perché questo possa funzionare meglio ci dà una leva moltiplicatoria e quindi mantiene quella quel contatto e quell'occasione poi quando c'è l'argomento giusto di conversazione nei commenti se presidiati ma facendo un'attività che impatta su decine centinaia o migliaia di persone in una volta siccome anche nei commenti qualcuno parlava appunto dell'importanza dei contenuti contenuti che osano eccetera diciamo dimmi se sei d'accordo per il networking non è veramente essenziale al cento per cento ma è un grandissimo contributo il fatto di essere attivi e pubblicare sì sì assolutamente ci perdiamo è un contenuto non dico quotidiano ma è un appuntamento che durante la settimana deve essere costante e deve toccare anche leve differenti di chi ti legge cioè c'è il contenuto più informativo c'è il contenuto ispirazionale e il contenuto che mira proprio a creare un dialogo e non è con la domanda e tu che ne pensi o tu lo fai come lo fai cioè ognuno poi chiaramente ha il proprio stile però è nella varietà di contenuto che io a volte mi accorgo di avere l'opportunità di conoscere persone differenti che per molto tempo se non per anni sono state silenti con i miei contenuti arriva quel contenuto invece che polarizza la loro attenzione ed evidentemente va a solleticare quelle corde che fanno scattare la relazione quindi sì il contenuto può essere un potente attivatore di relazione e noi non possiamo del tutto controllarlo soprattutto se ci muoviamo in un binario di autenticità ecco questo ci tengo a sottolinearlo io non ho mai volutamente pur avendo delle competenze perché ricordiamoci la psicologia può essere usata nel bene e nel male è uno strumento è uno strumento quindi la psicologia può tranquillamente andare a percepire le emozioni che stanno dietro al successo di un post e quindi io ho sempre scelto di rimanere sulla psicologia del bene e dell'autenticità e di rimanere congruente al mio stile personale che è quello di non cavalcare i malumori non scrivere post polemici e così via però quelli indubbiamente funzionano quindi poi sei tu quando produci e scrivi dei contenuti che scegli da che parte stare anche perché parliamoci chiaro cosa te ne fai di un post con tanti like non allineato ai tuoi valori quindi io mi chiedo sei scrivi un post polemico perché sei realmente così e quindi poi fai un lavoro di quel tipo io non lo potrei mai fare perché poi non sarai in grado di sviluppare un lavoro di quel tipo assolutamente un bellissimo esempio di autenticità infatti va bene allora Claudia io ti ringrazio tantissimo per il tempo che hai dedicato e per gli spunti devo dire che nonostante siano temi insomma che padroneggio mi ha ispirato veramente in alcuni passaggi personalmente quindi ti ringrazio no no davvero e poi ci hanno seguito veramente le persone in un modo estremamente attivo ci ha sviluppato come dicevi una community nei commenti quindi grazie a chi l'ha fatto grazie a chi si sta magari anche connettendo e sta facendo networking grazie a questo io mi prendo appunto l'impegno nelle prossime ore di entrare vedere insomma dare delle risposte sono state fatte anche delle domande tecniche ci vediamo proprio ci vediamo lì in questo salotto virtuale anche dopo questa diretta esatto grazie Claudia grazie a tutti e visto l'orario direi anche un buon pranzo assolutamente a presto ciao a presto ciao ciao